In questo video vi parlo dei movimenti delle acque oceaniche, faccio sempre riferimento al Wikibooks Scienze della Terra per le superiori. I movimenti sono principalmente tre, il moto ondoso, le maree e le correnti marine. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora il moto ondoso, tutti conosciamo le onde del mare, adesso cerchiamo di capire cosa sono, come si formano e che caratteristiche hanno. Come mai si formano le onde? Il mare è in contatto con l'atmosfera e con i suoi fenomeni, quindi anche con i venti. Il vento soffiando sulla superficie muove in qualche modo la superficie dell'acqua che si comporta come una membrana un'elastica per cui la superficie comincia ad oscillare e man mano che il vento soffia queste oscillazioni si sommano tra di loro fino a formare delle onde visibili a occhio nudo anche molto grandi. Quindi il moto ondoso riguarda la parte superficiale dell'acqua perché man mano che poi si va in profondità questo movimento non viene più percepito. quindi la causa è il vento. Andiamo a vedere come è strutturata un'onda in generale, questo vale anche per le onde sonore, le onde della luce. Allora forse è meglio che ci apriamo un disegno. Allora questa è una superficie d'acqua che ha ricevuto, che è stata colpita da un oggetto o da qualcosa per cui è stata messa in oscillazione. Infatti sembra proprio una membrana elastica. Ecco questo schema mostra le caratteristiche di un'onda che vale per qualsiasi tipo di onda. quindi abbiamo l'onda, diciamo il punto più alto dell'onda si chiama cresta, il punto più basso si chiama ventre, la distanza tra due creste consecutive si chiama lunghezza d'onda e la differenza in altezza tra la cresta e il ventre si chiama ampiezza o altezza dell'onda. Ecco questo disegno mostra che quando avviene un passaggio di onde le particelle compiono un moto circolare però alla fine del passaggio dell'onda la particella si ritrova all'incirca al punto di partenza. Per cui un altro aspetto importante del moto ondoso è che questo trasferisce solo energia ma non la materia quindi non vi è spostamento complessivo di acqua con il moto ondoso. Se in mare vediamo qualcosa spostarsi non è per le onde ma per esempio per le correnti marine. A sinistra abbiamo un moto ondoso diciamo in mare aperto e vediamo che questo movimento circolare viene percepito in profondità fino a una certa profondità e poi scompare. Se il fondale è basso invece questo movimento circolare in qualche modo fa trito con il fondale marino per cui viene schiacciato e questo vedremo che determinerà anche il fatto che l'onda a un certo punto si rovesce. Ecco, questa animazione mostra appunto il movimento più o meno circolare delle particelle d'acqua e il fatto che se andiamo in profondità questo movimento via via diventa sempre meno intenso fino a scomparire. Ecco, onde particolari poi sono i frangenti e gli tsunami. Gli frangenti si formano quando un'onda si rovescia e forma la schiuma bianca. In genere quando pensiamo alle onde si pensano proprio ai frangenti perché è l'onda più spettacolare da osservare. Il frangente si forma perché il fondale si abbassa per cui nella parte sottostante l'onda in qualche modo fa trito con il fondale per cui la parte sovrastante invece tende ad avanzare e a rovesciarsi. Gli tsunami invece si formano non per effetto del vento ma sono conseguenze di eruzioni vulcaniche sottomarine, di terremoti, di frane. Questi fenomeni determinano onde particolarmente intense, elevate e possono arrivare anche a 30 metri. di altezza. Ecco, questo è un frangente. Chi fa surf cerca onde grandi, ma che in realtà sono frangenti, cioè onde che poi si rovesciano e dove loro cercheranno di infilarsi. Ecco, anche questo è un surfista che si trova sotto un grande frangente. Ecco, le frangenti, cioè l'onda che si rovescia in genere in prossimità della costa, sono i responsabili anche dell'erosione delle coste, perché quando l'onda si infrange, mette in movimento le particelle di sabbia, di ciotoli, i detriti, e questi vanno a erodere vanno a erodere la costa. Anche l'acqua in sé può portare via detriti, però spesso, molto spesso, sono i detriti stessi che, messi in movimento dall'acqua, vanno a scavare, vanno ad erodere le coste. Ecco, questa è un'immagine dello tsunami del 2011 in Giappone, quello che causò il famoso disastro della centrale nucleare di Fukushima, e si vede che tutta la costa è allagata. Questa foto, invece, mostra un altro famoso tsunami del 2004 in Thailandia, dove ci sono state tantissime vittime. Questa è sempre una conseguenza dello tsunami del 2004, però qui siamo nelle coste indonesiane. si può vedere che l'onda ha praticamente spazzato via tutta questa zona pianeggiante fino all'inizio del rilievo, quindi tutto quello che c'era qui è stato portato via. Ecco, questa animazione mostrerebbe un po' come si formano tsunami. Quando c'è un terremoto in mare aperto, l'onda di per sé non è molto alta. quella del 2004 mi pare che era alta circa un metro, però poi man mano che si avvicina verso le coste, il fondale si abbassa e questo per un effetto, diciamo, ondulatorio, l'onda cambia e diminuisce la lunghezza d'onda e aumenta la sua altezza, per cui poi sulla costa possono arrivare onde alte decine di metri, fino a 20-30 metri. Ecco, questo è un cartello che mostra, evidenzia il pericolo tsunami e dice che in caso di terremoto si può correre verso la parte alta dell'interno del territorio. Bene, andiamo a vedere un altro movimento che caratterizza i mari e i oceani e sono le maree. Le maree sono causate non dal vento, ma semplicemente dalla trazione gravitazionale della Luna principalmente e anche un po' dal Sole. Questo perché la Luna, con la sua massa, riesce ad attirare tutta la Terra, però essendo l'acqua fluida, diciamo, questa tende ad avvicinarsi in direzione della Luna. Questo fa sì che la superficie del mare subisca periodici innalzamenti e abbassamenti e questa viene chiamata anche escursione di marea, cioè la differenza tra alta e bassa marea ecco, qui abbiamo un disegno che mostra un po' questo fenomeno, quindi abbiamo la Terra, il Sole e la Luna, la Luna gira attorno alla Terra, in corrispondenza di dove si trova la Luna abbiamo anche un sollevamento dell'acqua marina, adesso qui non si vede, se Luna e Sole sono allineati, o quando c'è la Luna nuova o quando c'è la Luna piena, il fenomeno è aumentato, quindi la marea è particolarmente elevata, si dice marea sigiziale. Se invece la Luna si trova a 90 gradi rispetto al Sole, in qualche modo la Luna attira l'acqua da un'altra parte, per cui fa sì che la marea sia minima e si parla marea di quadratura. Quindi ogni giorno ci sono due alte e due basse maree, questo perché è vero che la Luna fa un giro attorno alla Terra in circa un mese, però la Terra continua a ruotare in 24 ore, per cui ogni 24 ore la Luna passa in corrispondenza di un meridiano e quindi la massa d'acqua viene attratta ogni 24 ore. Però l'alta marea ce l'ho anche dalla parte opposta rispetto a dove c'è la Luna e quindi ogni giorno ci sono due alte maree e di conseguenza due basse maree. Quindi abbiamo le maree sigiziali, che sono quelle particolarmente intense quando Sole e Luna sono allineati, e le maree di quadratura invece quando il Sole e la Luna in qualche modo si annullano un po' a vicenda, per cui l'escursione di marea è minima. Alte e basse maree formano anche delle correnti di marea quando l'acqua può entrare attraverso canali, può essere una foccia di un fiume o dei canali naturali, quindi si formano dei canali di marea e si formano queste correnti di marea. Vediamo qualche immagine. Questa è... qui siamo in Canada e vediamo, ecco qui la differenza tra alta e bassa marea è notevole, sono alcuni metri. Ecco, l'escursione di marea può variare a seconda delle località. Si va da pochi centimetri a diversi metri. Qui siamo in Francia, nel porto di Gori, nel Jersey, è un'isola nel nord della Francia. Ecco, vedete anche qua l'escursione di marea è notevole e nella bassa marea le barche vanno in secca praticamente. Ecco, questo disegno mostra un po' meglio come sono posizionate le alte maree e le basse maree rispetto alla Luna, per cui l'alta marea ce l'ho sia in corrispondenza della posizione della Luna, sia dalla parte opposta per un effetto di forza centrifuga. E la bassa marea ce l'ho a 90 gradi. In realtà l'alta marea arriva con un po' di ritardo, perché c'è una certa inerzia nello spostamento, per cui quando vediamo passare la Luna sopra il meridiano, l'alta marea arriva con circa due ore di ritardo. Questa è un'animazione che mostra sempre la posizione della Luna. Vedete che la Terra ruota, fa una rotazione di 24 ore, invece la Luna fa un giro in un mese. Il Sole ce l'avremo qui sulla destra, sono evidenziati solo i raggi solari. Ecco, qui si vede come quando la Luna è allineata con il Sole, le maree sono particolarmente intense. Quando la Luna è a 90 gradi sono meno evidenti. Ecco, tipo adesso è allineata, marea è evidente. Qui a 90 gradi la marea è minima, l'escursione di marea è minima. Adesso la Luna torna ad allinearsi, vedete l'escursione di marea è elevata. Questa carta mostra come queste escursioni di marea variano. Ci sono località in cui l'escursione è notevole. Si arriva ad alcuni metri, come per esempio qui nel Centro America, nella costa Pacifica, oppure come nel Nord Europa, nella costa Atlantica, e altre zone dove invece l'escursione di marea è poco significativa. Questo spiega l'animazione di prima. Quando la Luna è allineata, la marea è particolarmente intensa, marea sigiziale. Quando la Luna è a 90 gradi rispetto al Sole, la marea è minima, marea di quadratura. Anche quando la Luna è dalla parte opposta rispetto al Sole, è comunque allineata e comunque la marea è sigiziale, quindi le maree sono intense. Alta marea in Belgio, bassa marea nello stesso porto, sempre in Belgio. Questi sono dei canali di marea. Sono canali non molto lunghi, perché essendo l'alta e bassa marea distanti 6 ore circa, l'acqua riesce a entrare nel continente solo per un breve tratto. Attorno a questi canali ci possono essere anche delle piane, di pianetidali, delle piane di marea. Questo è un altro canale di marea. E in questi canali, a lungo questi canali di marea, nei climi tropicali equatoriali, spesso ci sono mangrovie, che si adattano ad acque salmastre, perché spesso questi canali hanno anche acque, arrivano anche, possono essere caratterizzati anche da acque dolci che arrivano da corsi d'acqua. Vi mostro anche, ecco, con Google Earth, se andiamo sulla costa del Brasile, qua un po' più su c'è la foce del rio delle Amazzoni, ecco, se zoomiamo, notiamo tantissimi canali di marea. Ecco, vedete che non sono lunghi, però sono abbastanza ampi, ed entrano nell'entroterra per un certo tratto. Quindi qui abbiamo canali di marea e piane tidali, cioè piane, zone pianeggianti di marea. Bene, vediamo l'ultimo movimento che caratterizza mari oceani, cioè le correnti marine. Le correnti marine possono essere definite come dei fiumi che si muovono all'interno di mari oceani, quindi sono degli spostamenti di grandi masse d'acqua. La causa principale è il vento, ma non solo. Quindi, in un certo senso, le correnti marine hanno la stessa causa del moto ondoso, quindi il vento, però a volte anche le differenze di temperatura, di salinità e densità possono favorire movimenti di masse d'acqua, soprattutto in verticale. Possono essere superficiali, se interessano, diciamo, spessori compresi tra i 100 e i 300 metri di profondità, oppure profonde al di sotto, quindi... Come mai ci sono queste correnti superficiali? Questo perché sulla Terra ci sono dei venti generali che soffiano con una certa costanza sempre nella stessa direzione e questo fa sì che il vento, in qualche modo, mette in moto anche delle correnti d'acqua. Poi la rotazione terrestre fa deviare queste correnti, facendo sì che queste abbiano dei moti circolari. La corrente più famosa è la corrente del Golfo, si chiama così perché parte dal Golfo del Messico, che si trova in una fascia tropicale, per cui è acqua relativamente calda, e poi queste correnti si muove verso l'Europa settentrionale e in questa zona va a mitigare, rendere mite il clima delle zone britanniche. Esistono correnti calde, esistono correnti fredde, per esempio la corrente del Labrador, che si trova nella costa est del Canada. È una corrente fredda e va anche a influenzare il clima, per esempio, di New York. E poi abbiamo correnti profonde, sono correnti che sono messe in moto da variazioni di densità, vuoi per il diverso riscaldamento dell'acqua superficiale o per variazioni di salinità, e quindi abbiamo correnti profonde che in qualche modo poi sono collegate a quelle superficiali. Infatti alla fine abbiamo dei grandi serpentoni di acqua che si muovono in superficie e però sono collegati anche con quelle di profondità, come mostra questo grafico che collega in qualche modo la corrente del Labrador con delle correnti profonde che poi si collegano con delle correnti superficiali. Ecco, questa è una mappa che mostra le principali correnti. Abbiamo la corrente del Golfo, Gulf Stream, che poi diventa corrente Nord Atlantico e va verso il Nord Europa. abbiamo una corrente... vedete che nell'emisfero Nord le correnti tendono a ruotare in senso orario, nell'emisfero Sud invece tendono a ruotare in senso anteorario. Queste diverse rotazioni è una conseguenza della rotazione terrestre, è l'effetto Coriolin, della forza di Coriolin. Questo l'abbiamo visto. Ecco, le correnti possono mettere in movimento ciò che galleggia, per esempio gli iceberg sono trasportati dalle correnti marine. Grazie. 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 Grazie.